Riparte il campionato anche a Mantignana dove i locali cercano punti per costruire l'ultima fetta di salvezza. Nella lista è evidente l'assenza di Gibbs passato al Ventinella e quella di Tinozzi squalificato. Ospiti della Tiberis con solo 15 effettivi. All'andata fu un pirotecnico 4 a 6. Andiamo con la cronaca al terzo minuto sponda di Cenerini per Meattelli che però non colpisce bene. Passano 7 minuti ancora Meattelli protagonista diagonale in area dove Ceccarelli dice di no in tuffo. Al diciassettesimo contropiede ospite con buono core che fa tutto bene ma è impreciso. Al diciannovesimo speziali prodigioso su Mele questa l'azione migliore della squadra bianco-azzurra dopo bella iniziativa di Muca. Al ventunesimo si sblocca il risultato filtrante per Cenerini che raccoglie tira in diagonale Paraceccarelli ma c'è Scopetti che sigla il raddoppio e la quinta rete personale stagionale. Al trentunesimo splendida azione personale di Cenerini che poi conclude con un gran diagonale destro che va ad incocciare il palo. Al trentacinquesimo la testa di Galizzi para Ceccarelli in tuffo ma passano solo quattro minuti ed il raddoppio meritato è servito. Punizione di Scopetti, deviazione della barriera e Ceccarelli non ci arriva. Quando sembra in totale controllo la partita dei padroni di casa al quarantatresimo l'arbitro il signor Fora di Terni si inventa un calcio di rigore. Fallo che a tutta evidenza delle immagini è stato commesso dal centramanti della Tiberis invece ribalta tutto il direttore di gara e concede il calcio di rigore sul dischetto va Capitan, Mucca e Spiazza Speziali. Finisce 2-1 una prima scoppiettante frazione di gioco. Nella ripresa molto più avara. Di opportunità all'ottavo Galizzi anticipa tutti ma sta per siglare un clamoroso autogol. Il palo lo salva. Al quattordicesimo tris dei locali splendida azione Miattelli, Scopetti, Cenerini e Belardi che infila di giustezza nell'angolo. Per il resto è solo Cronaca finisce 3-1 per il Mantignana. Un risultato meritato ed una classifica che si fa sempre più bella per i ragazzi di Mister Rubeca. E dire che tutti erano preoccupati dell'assenza di Gibbs, della partenza Gibbs, mi pare che la squadra invece ha giocato meglio del solito. Sicuramente la partenza di Alex è stata una partenza importante ma io ho un gruppo di giocatori che danno il 120% sia in allenamento in partita e si vede. Prima della partita gli ho detto che secondo me siamo una squadra forte anche senza Alex e il campo ha detto questo. Certo, la Tiberis purtroppo per loro aveva tante assenze ma purtroppo quest'anno è un campionato talmente tanto particolare sotto quel punto di vista che una volta uno, una volta l'altro è così. Si può dire che avete costruito una bella fetta di salvezza ad oggi? Abbiamo messo un altro mattoncino al nostro obiettivo, il nostro obiettivo è sempre quello lì e come la nostra mascotte ci ha scritto e l'abbiamo appesa sullo spogliatoio, volere potere, i miei giocatori lo sanno, è un mattoncino verso il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Io temevo la situazione, ormai la situazione è abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel nostro caso è dura, oggi c'avevo un cambio possibile, più due che sono venuti per darci una mano dal punto di vista del morale ma essenzialmente è difficile, con tutto sto bailamme dalla pandemia in poi succede anche che ti ritrovi a giocare ormai non una ma tantissime partite senza 10-11 giocatori, ce la metti tutta, non puoi neanche incavolarti con i giocatori che comunque sia ti danno una mano, poi c'avevo due o tre arrivi, ma visti proprio un paio di allenamenti, insomma ci sta che si poteva perdere, mi dispiace perché comunque ce l'abbiamo messa tutta ma al momento questa è la nostra situazione. L'appio positivo sarebbe recuperare chi non ha avuto oggi e magari andare sul mercato in maniera mirata, nel senso che ormai è tardi per fare esperimenti, per poi ricompattare una squadra, cioè si naviga un po' a vista. Io quest'anno ho visto un po' di tutto, ci è successo un po' di tutto senza entrare in particolari e ripeto, avere una squadra fuori e una improvvisata dentro ti porta a partite di questo tipo.